Fai fatica ad esprimerti in inglese? Magari hai studiato l'inglese ma senza mai parlarlo e non sai come pianificare il tuo studio. Allora forse è ora di parlare con me. Ti senti bloccato con il tuo inglese? Ti perdi fra mille libri, siti e app? O magari studi tantissimo da solo ma senza mai parlare, senza mai applicare le tue conoscenze linguistiche. Io mi chiamo Jeremy e voglio aiutarti ad imparare l'inglese, ma impararlo in modo pratico, attivo e orale. L'English Lab è una chiamata individuale. C'è una valutazione del tuo livello e delle tue esigenze, la possibilità di fare un po' di speaking anche in base ad un nostro corso e cercherò di darti dei consigli pratici per rilanciare il tuo inglese. I really look forward to meeting you and to helping you with your English. Bye! Ciao! Ciao!